Proprio felice, per il momento difficile, per tutto. I giovani erano contenti, il culo, il chiesa... Per forza, partire subito, abituarsi a vincere... Capisco la sensazione tra vincere e perdere. Esatto. Questa è troppo importante. Una bella differenza. Io mi sono avvicinato a Cristiano, ho finito la partita e l'ho ringraziato. Mi ha detto grazie che lei mi ha fatto vincere un'altra coppa. Ovviamente mi ha detto che su 22 finali ne ho perse solo 4. Ho vinto cinque Champions, mille palloni d'oro. Cheers, guys. Al mister. Complimenti ragazzi a tutti. Grazie a tutti. Grazie, mister.